Opsa a tutti, miei cariopsini, come state? Scusate, oggi sono qui per un nuovissimo video, davvero, davvero, davvero semplice, che mi avete richiesto voi. Sì, avevo letto un commento che mi chiedeva di fare un video in audible, in audible, in audible, e io ho deciso di aggiungerci anche un po' di brushing, che è un po' che non lo faccio, quindi indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, dormire, dormire. Io comincio con il video So Allora Io mi prego limpiaaaa A me potrò A me appare Mi prego limpi Ero Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info un anno per l'alba devo dire che questi giorni sono un po' in carica di video non so, non ho idea non ho vero che cosa però non è vero è vero, è vero, è vero è vero, è vero quindi non preoccupate per l'alba sono ancora occhi non ho rispettato non ho vero che cosa ? ? ? ? ? ? superi però comunque non importa non parliamo ancora per poter credere come un appoglio è quella della cazza oppure oppure è cosa che prego di qualcosa gli interiutati per esempio mi ha dato un cuore una bellissima e devo dire che è una parte dei primi due episodi che ho trovato un pochino altra che ho trovato un pochino altra mi ha dato piacendo tantissimo la serie però davvero venire per la vita per esempio trovo il gusto per me per me per me per me per me council B'dipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipiipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip sono appena adeguati che sono del 5 e 4 e 5 perso tra questo video di domenica lo sono pronti, sono pronti di solito mi fanno le 3 e mezzo con il 4 e 4 e 5 minuti prima e dopo prima tempo prima tempo prima tempo prima allora è per questo video di non prendere un libro e leggere perchè sarebbe usato un pochino troppo incomprata e mi ha voluto dedicarmi così da riguardo mentre parlo 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 e anche con un po' di bravi che farà tutto non c'è ufff 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 sono arrivato a questo video per il previato ufff ora 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 mi raccontate voi mi sto parlando con lo mio un minuto io sto parlando con la telecamera roma che sono diventata molto diverso equipa un po' il telefono che è ruidia e un po' il tablet computer per il tipo di smartphone quanti è questo tipo vediamo il mio video potrete vedere il mio video il mio video mamma mia veramente ho veramente toccato sarà per il mio concetto è vero però possiamo intanto continuare a parlare però ancora ho una ventina di minuti con quello con i fili di minuti dai solo posso dire tutto con i minuti racconti dell'ombra quindi c'è ancora tanto del capo d'articolo al più del dubbio quindi di cosa potremmo parlare o no con i fili di minuti ho visto tutti i fili di minuti per esempio adesso ho guardato con i fili di minuti e poi realiti qualche macchina ricorda se ricorda se ricorda se ricorda però c'è anche io e i miei dati con i fili di minuti preferiti con i fili di minuti con i fili di minuti con i fili di minuti che poi dovresti un companto sembra vervi è vervi ci anche ci come ti dicevamo che sto curioso con i sorelli di che mi chiamano da circa e i cari gravi di che mi parlo il gioco delle persone che si è dentro di questa e ando a tutti gli schermi con le attivazioni vocali che si attiva una colorazione e il calcolo e si attivo con la parte della lingua dell'intervento un gioco con quello schermo puoi ascoltare con gli altri settori senza mai contraddittarlo con il tuo video profilo e si attivo con la lingua dell'intervento con la lingua della lingua dell'intervento e voglio ascoltare tante cose che veramente ho realizzato davvero bello davvero bello davvero bello davvero bello davvero bello un altro � stato parlare un tric сделали brazil 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 va bene non c'è nulla parla non c'è nulla un po' di prassi ma si dai alla prossima che mi piacciono tantissimo per il primo taglio per il primo taglio che fa dei video davvero davvero bello cioè il mio video in realtà è il numero che l'ho provato però va bene non importa l'altro è il mio progetto è la parte che dovrebbe avere qualche milione di solida di America tutti tuttini ma anche essere attraverso io mi ho provato non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è andiamo di porno per un po' vicino non lo stai a cercare proviamo andiamo di porno per un po' vicino con il cuore qui con tutti i contoranti delle parole che dico tutto tutto e tutto quello che dico per le parole rigolari e che davvero è che le parole per le parole che non ti puoi capire bene quando devo muoverlo pure io perché le parole rigolari perché qui non ti puoi capire perché qui non ti puoi capire perché non ti puoi capire però molto bello è che il video è tutto se volete capire se volete capire se volete capire se volete capire si, t'ho vissato provare a farlo a farlo da l'aletto ecco l'ho messo con la contatta a farlo da l'aletto a farlo da l'aletto e poco e lo tiro blablabla brei qua te guarda questo minuto perfetto 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 per fare qualcosa tra i denti però che sia molto tipoliti 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 non capisco se questo microfono è grato anche per i piedi che vuoi molto bene però secondo me no tipoliti 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 scrivete guardate quale microfono preferite tra i denti il cammino e il piede che è interessante saperlo potremmo magari un sottaggio Instagram forse non lo so proverò e anche però scusate che il pubblico posta Instagram mamma che per me non ha tipo lui che deve fare le foto per il tipo il mio bambino e anche perché lo lo tolgo quindi per me non lo faccio la foto a casa appena ho dato anche mi faccio la foto anche comunque devo riparare un'altra cosa e poi dovrei anche poter andare a fare le foto in seguito anche per i video che escono sul mio dimendico cioè appena fare il mio dimendico e va bene l'importa non importa, non importa, non importa, non importa, non importa, non importa allora, quanti mi presenti per me? mio papà, mio sangue, mio papà mio sangue, mio sangue, mio papà e poi la mia chiretta, i miei cagliari, il mio colt il coltello, il mio coltello, il mio coltello il mio coltello, va bene è davvero, 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 davvero carino, davvero carino scusate, ci vengo a fare nulla ditemi se preferite l'indipolle un po' più lontano così magari, non lo so, ne lo preferite o no oppure se lo preferite così molto, molto vicino scusa rilassca 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 tante robe rilassca rilassca tante robe fugga perchè sono qua per rientrare, qua per rientrare, qua per rientrare che voi vedrete non so quanto troppo di tempo comunque non so di cosa potrei parlare ma finiscono subito gli argomenti di amici, di persone che vettete amminato oppure sono delle prime cose che trovate nel mezzo per il giro del testo ammirato perché già non ce la faccio a vedere non sono un po' più colorato, ma troppo più colorato che l'altro però un po' capitano magari quei giorni dove sembra che non lo venga aperto io perché la mattina per l'idea ci sono quei giorni vatti un po' così, un po' volante, non importa non importa alcuni ragazzi che ho detto che è tutto il momento di darmi la cura dolore perché tra poco la mia mattina è tanta cala riprenda, pur che oggi ci tratta quasi mezz'ora questa parte non la faccio in audible time ora tocca a voi iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della OOPS community e se siete dei maschietti diventare i miei OOPSini mentre se siete delle femminucce diventare le mie OOPSine poi lasciate un bel mi piace qua sotto se questo video vi è piaciuto io spero di sì, mi sono impegnato tanto, spero che l'innovo di buon video vi sia piaciuto e commentate qua sotto tutto, 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 tutto quello che vi passa per la testa, va bene? purtroppo il video di oggi finisce qua ma se voi volete restare ancora insieme a me io vi lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e guardare qualunque video che vogliate quindi ragazzi buonanotte 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 un bacio e ci vediamo al prossimo video buonanotte